Grazie a tutti. Benvenuti al nuovo appuntamento con il Telefestival, la rubrica che ogni giorno alle ore 18.30 ci tiene compagnia per tutta la durata dell'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente, organizzato dalla provincia di Foggia con il contributo della Regione Puglia e dell'Unione Europea. Passiamo subito al programma degli eventi previsti per domani 5 dicembre. Si apre con le scuole la quarta giornata del Festival, con un appuntamento mattutino, organizzato in collaborazione con la delegazione di Foggia del FAI, presso il Museo Provinciale di Storia Naturale. Saranno proiettati i film Spero di conoscerla presto di Peter Ranalli e Matteo Simone alla presenza dei registi e No Music for Wales di Guido Pietro Luongo sulla vicenda dei capodogli spiaggiati sul Gargano nel 2009. Per il dibattito sui temi ambientali sarà presente Maria Luisa Dippolito, capo delegazione di Foggia del FAI. Nel pomeriggio ancora spazio ai film in concorso, sempre presso la Sala Farina, con ingresso a 2 euro. Si comincia alle 18 con il film svedese The White Game di Gorel Krona, che sarà presente al dibattito in sala. Il film, sottotitolato in italiano, racconta la storia di tre donne che ereditano una casa da una certa Dolores, che nessuna di loro conosce. Alle ore 20, sempre alla Sala Farina, in Via Campanile, il regista Gianpaolo Vallati e l'attore Angelo Orlando presenteranno il film Cara Ti Amo. Storia di quattro amici quarantenni, alle prese, con un dinnellemma esistenziale. Non si può vivere senza le donne, ma non è neanche possibile viverci assieme. La regista Mirca Viola e l'attore Paolo Briguglia interverranno invece alla proiezione delle 22 del film L'amore fa male. Storia di Germana, attrice disoccupata, che a un certo punto incontra Gianmarco e poi Elisabetta, con cui salda un forte rapporto di amicizia, proprio mentre affiorano per entrambe una serie di risvolti inaspettati e crude verità. Bene è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi aspettiamo in sala e intanto continuate a seguirci sul nostro sito e per vedere questa rubrica sul sito della provincia di Foggia. A domani con il Telefestival. Grazie a tutti.